Ciao a tutti, siamo qui nel nostro nuovo stabilimento di Mezzo Lombardo. Benvenuti a tutte le famiglie che oggi vengono a visitare lo stabilimento. Abbiamo qui rappresentanti degli enti locali che festeggiano con noi e tutte le aziende che hanno partecipato nella costruzione del nostro nuovo stabilimento. Aspettatevi tanto di nuovo, abbiamo tanto spazio per nuove idee. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.